Pacifico, voto 5 e mezzo. In avvio sorprende Alingheri sul calcio di punizione, ma con il passare del tempo non riesce più a far salire la squadra. Impalpabile. Melis, voto 5. La rinascita Ponzacco preme ed aspetta un proguizzo vincente, che però non arriva. Disaparesilis. Schiavone, voto 7. Desidia bene la fascia sia in fase difensiva che in quella offensiva. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto, regalando due punti importanti al San Donato. Provvidenziali. Tremolanti, voto 6 e mezzo. Partita attenta. Guida la difesa in modo impeccabile. In colpevole sul gol di Schiavone. Mezzo voto in meno perché non si presenta in sala stampa. Scorbutico. Mister Turini, voto 5. Il ruolino di marcia è da zona play-out. Con tre sconfitte, un pareggio e una vittoria vede di leguarsi l'altra classifica. L'unica speranza è che abbia una ragione maia. Catastrofico. Mister Rossi, voto 7. Trova le chiavi per rimettere in moto lo spento Vico Pisano. Con due vittorie consecutive sembra uscire dal giugno. Esuberante. Baldanzi, voto 6 e mezzo. Guizza sul gol che porta in vantaggio il Barbardini, poi alla lunga sparisce. Rimane comunque cecchino. Cignoni, voto 6. Porta il fauglio al temporaneo pareggio ma poi sparisce e non crea più pericoli per la porta di Sperla. Infortunato.